Finisce in parità il derby dell'Adriatico, contornato di gran pubblico e grandi attese e al quale è mancato solo il gol. Senza la stellina, i cramellà, l'alba, indisponibile Le Noci tra gli ospiti con Francesco Di Paolo che parte dalla panca e gli viene preferito Buonavoglia Scelta che si rivelerà azzeccata soprattutto nei primi minuti di gioco Andiamo a vedere con le immagini di Mario Giacchetta cosa è accaduto Dicevamo primo tempo diviso a metà Giulianova più efficace con Buonavoglia Appunto protagonista già servito al primo lungo viene fermato in prossimità della linea Al minuto 13 lo stesso numero 7 va al tiro e bacia pieno il palo alla destra di Barduagni Due minuti dopo tocca alla barba incursione in area Contrato finisce giù si può proseguire ordina Marco Giordano di Matera Ancora Buonavoglia al ventesimo tutto molto bello dai piedi dell'attaccante Che riesce anche ad andare al tiro fermato in uscita da Barduagni Il Giulianova si ferma qui in efficacia sottoporta mentre sale il centrocampo Rosso verde che capisce le rotazioni di centrocampo giallorosso e ne tampona la famigerata profondità Ripresa al terzo pallone in area per torre che dopo il controllo si fa anticipare da un difensore giallorosso Che spazza e sventa il pericolo Prova Traini poco dopo distanza considerevole Tiro forse debole Barduagni in ogni caso in due tempi è presente Passa molto più di un quarto d'ora ancora Alba Marini per Neri che però non impatta granché E due minuti dopo tocca a Passamonti chiamare in causa Bocca Nera Oltre la mezz'ora l'acuto giallorosso di cui è protagonista Sisse che si lavora Un bel pallone converge al centro dove Giglio Prima e Di Paolo Proi provano la deviazione vincente Con Barduagni vivo anche nel tocco in angolo Prova una sorta di piccolo arrimbaggio finale la vice capolista ma non trova nulla di che E così domenica sarà sfida al vertice e forse ne sapremo di più Mister, 20 minuti da Giulianova, un palo, altre due occasioni di gioco Poi è salita l'intensità dell'Alba Adriatica Una squadra che del resto non ha permesso nemmeno ad Avezzano di imporsi su questo campo Sì, noi pensavamo fin dall'inizio che fosse una partita diciamo sporca E sporca è stata E sporca è stata, nel senso che solo in poche occasioni si poteva avere tempo e spazi Con il campo permettendo di gestire o di fare la partita o cercare di fraseggio Era difficilissimo Come ho detto sono contento e orgoglioso di questo gruppo molto giovane Che si può adattare in una settimana da un campo all'altro Questo era un campo difficile Loro si sono adattati, abbiamo creato, penso, due pali Un palo abbastanza clamoroso Un'occasione al primo o secondo L'occasione l'abbiamo creato nonostante tutto Io sono contento, sono contento di quello che si sta facendo Sono orgoglioso di loro, di quello che si sta facendo Perché, ripeto, solo il pensiero di andarci a giocare una partita Dopo questi mesi che noi abbiamo creato questa squadra Siamo contenti di quello che si sta facendo Mister, dopo l'Avezzano è toccato al Giulianova Una partita gagliarda, una partita con molta personalità, molta intensità Forse c'è da recriminare sulle occasioni che sono state poche Mancava i cramellà, però c'è da dire che l'anima di questa squadra c'era E c'è stata ed è stata applaudita No, c'è da recriminare Il Giulianova nel primo tempo avrebbe meritato di passare in vantaggio 20 minuti del Giulianova, un palo Perché noi purtroppo abbiamo subito le rotazioni in mezzo al campo Non avevamo capito come ci dovevamo muovere Abbiamo subito questa particolarità tattica, se la vogliamo chiamare così Ci siamo fatti prendere su alcune ripartenze La partita l'avevamo preparata in questo modo qua Nel andare sulle preventive Perché sappiamo che loro quando attacca la profondità sono micidiali Il Giulianova avrebbe meritato di passare in vantaggio al primo tempo Nel secondo tempo c'è stata una sola occasione Un solo tiro in porta Noi in alcune ripartenze non siamo stati cinici Mi ricordo adesso la fine con Torre Se la metti in mezzo siamo 3 contro 1 E lì come diceva un tuo collega Allora se ci vogliamo salvare Siamo sulla buona strada L'atteggiamento è quello giusto Non si può prescindere da quello, deve essere sempre quello Si può osare però qualcosa di più Qualcosina in più devi mettere più qualità nelle giocate E anche nelle scelte Noi sbagliamo tanto Tante troppe scelte La partita è stata una partita non bella Su questo campo è quasi impossibile fare di più Abbiamo giocato Siamo stati speculari Sull'avversario Abbiamo giocato molto sugli errori dell'avversario E ripeto alla fine Si poteva scappare qualcosina a più Che sinceramente Era troppo Era tanto Non avremmo meritato la vittoria Va bene perché Non ci dimentichiamo Il Giulianova l'andate ce l'aveva maltrattato Tra virgolette 3 a 0 5-6 pali Non mi ricordo neanche Insomma Era stata una partitaccia Per cui La tenevo un pochettino Questa partita L'abbiamo preparata bene Siamo contenti Siamo contenti del nostro percorso Anche se c'è da fare tanto Se vogliamo Se vogliamo fare qualcosina in più Siamo contenti del nostro percorso